Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo delle Tubes Flex VRT, le top di gamma di casa Tubes, delle ciaspole con quale ci si può fare un po' di tutto, sia da un po' di traversi fino alle passeggiate più tranquille, delle ciaspole anche abbastanza leggere che hanno sicuramente la ramponatura fatta molto bene, ma ve ne parlo meglio nella recensione completa. Inizio con riportarvi qualche informazione fornita dalla casa. Allora, ciaspole Tubes Flex VRT, peso 2 kg, poco meno nella versione da donna, perché esiste sia la versione da uomo che la versione da donna. Esiste nella versione da 25-29 pollici, purtroppo non sono specificati i kg per ogni singola taglia, però io terrei come spartiacque attorno agli 80 kg per andare a decidere se la versione inferiore o la versione superiore. Inizio subito col descrivervele partendo dalla parte inferiore, che è quella che mi è piaciuta di più. Non potete vedere, troviamo che corre a tutta lunghezza due binari, sia sulla sinistra sia sulla destra, che offrono davvero un ottimo grip, cioè queste ciaspole vanno super bene su qualsiasi tipo di neve, anche neve particolarmente dura, vanno veramente molto bene. Insieme al rampone Viper 2.0 di Tubes, che anche lui offre tantissimo grip, tanta stabilità, e questa configurazione le rende perfette anche per fare dei traversi, perché veramente la ciaspola resta lì, non scivola, non si muove, il grip è veramente fenomenale. Anche se i traversi possiamo vederli un po' come il tannone d'Achille di questa ciaspola, ma vedremo dopo il perché. Per ora rimaniamo che la ramponatura inferiore è fatta veramente bene. Inoltre vi aggiungo che mi stavo dimenticando, ci sono sei piccoli pezzetti in ferro, chiodi qua in fondo, per poter comunque avere grip anche sull'attacco della ciaspola. Vado a girarvi le ciaspole così vi parlo della parte anteriore. Iniziamo dall'attacco. Dall'attacco è una ciaspola con un attacco molto alto, fatto bene, questo ci aiuta molto nella progressione quando andiamo da sollevare il piede. Continuando abbiamo il Dynamic Fit System. In pratica cosa succede? Noi questo sistema va a riporsi sulla avampiede, punta della nostra scarpa, e lo va a serrare. Si serra tramite il boa fit. Il boa che conosciamo già basta semplicemente andare a girarlo e questo qua andrà a chiudere il Dynamic Fit attorno al nostro piede. Allora io mi ci sono trovato bene, funziona bene, ho notato solamente che per i numeri diciamo di scarpe un po' grandi, io ho un 47 ma secondo me da 45 in su, essendo la parte solo sull'avampiede ed essendo un 45 e un 47 un numero molto grande, quando noi andiamo ad alzare il piede c'è un pochino di gioco e dà un po' fastidio. Questo perché probabilmente il Dynamic Fit deve essere un pochino più alto, deve esserci un centimetro in più. Però non è un problema, nel senso è solo un'osservazione, se avete un numero sotto 45 non ve ne accorgerete nemmeno di sta cosa. Il Dynamic Fit che è fatto in schiuma di eva in modo tale che quando va a comprimere il nostro piede non sentiamo dolori e nel particolare anche se lo stringiamo veramente forte, sì sentiamo che è stretto ma non sentiamo pressioni, dolori o via dicendo. Per quanto riguarda la struttura, come vedete non troviamo nulla di solido, nel senso anche qua troviamo delle parti in gomma, tutta la parte in gomma e questo secondo me è un grosso difetto. È un grosso difetto perché nel momento in cui noi andiamo a fare dei traversi, la chiaspora resta lì grazie alla ramponatura che abbiamo visto prima. Il problema è che non avendo un sostegno laterale il nostro tallone e la nostra caviglia tenderanno a fare un movimento innaturale e alla lunga la caviglia fa male, fa abbastanza male e farete fatica a camminare. Io preferisco ciaspole dove la chiusura posteriore di cui adesso parliamo e comunque la parte diciamo tallonare sia rigida che ci dia sostegno durante i traversi. Per quanto riguarda la chiusura posteriore visto che ve l'ho citata è semplicemente un pezzetto che si va a chiudere, una chiusura molto semplice che funziona bene nel senso che comunque una volta chiusa resta bene. Il problema secondo me è che passa troppo spazio tra un buco e l'altro della chiusura perché cosa succede? Noi dentro la nostra chiusura abbiamo un forellino che va a infilarsi all'interno dell'anello e questo però non ci permette di poter andare a serrarla al millimetro nel senso a me è capitato che un anellino fosse troppo stretto quello dopo troppo largo e niente bisogna decidere se averla un po' troppo stretta un po' troppo larga. Questo è un fatto. Comunque è una cintura fatta bene in gomma non ha problemi si utilizza anche un passante dove andare a inserire la parte restante in modo tale che non spenzola quindi se questo non l'ha dire è fatto bene. Per quanto riguarda l'alzatacco allora l'alzatacco è veramente molto molto semplice è praticamente un pezzo di ferro che si tira su davvero molto semplice lo si può utilizzare in qualsiasi numero però io non vi consiglio di andare sotto il 36 perché sotto il 36 si rischia che lo scarponcino essendo magari molto piccolo non arrivi all'alzatacco diciamo dal 30 senso ecco l'unica cosa che a me non piacciono gli alzatacco fatti così per il semplice fatto che se abbiamo uno scarpone molto morbido per camminare sulla neve a lungo andare può far male continuare a picchiare su un alzatacco così singolo se invece utilizziamo degli scarponi con la sua la rigida quindi ramponabili in quel caso lì nessun problema perché comunque la rigidità ci aiuterà a non sentire il dolore del continuo sbattere sull'alzatacco. vi parlo infine della tecnologia flex di come è costruita tutta la ciaspola allora la tecnologia flex è pensata in modo tale che la parte posteriore possa andare a piegarsi così da aiutarci nella rullata nella camminata così che possiamo noi andare a risparmiare energie sentire meno dolori ai muscoli alle ossa mentre camminiamo e possiamo fare escursioni molto più lunghe senza affaticarci è è una tecnologia che abbiamo già visto su altri tipi di ciaspole qui è implementata solamente nella parte posteriore nel tacco questo perché naturalmente essendoci tutta la ramponatura beh la ramponatura è fissa e non può essere flessibile proprio per natura del materiale e quindi sono riusciti a farla solamente nella parte posteriore però sì nel senso funziona bene il suo vantaggio si sente anche se non a livello di quelle dei competitor sì diciamo ci può stare parlando della struttura non posso citarvi naturalmente la galleggiabilità allora sono ciaspole anche abbastanza larghe e belle lunghe quindi hanno una bella superficie d'appoggio e infatti queste ciaspole utilizzate nella neve fresca sono molto performanti hanno un'ottima galleggiabilità sono ciaspole che sulla neve fresca davvero si comportano molto molto bene grazie anche come vi dicevo all'angolo di attacco anteriore in conclusione cosa ne penso di queste ciaspole sono sicuramente fatte bene i materiali sono ottimi la ramponatura inferiore è veramente fatta bene è una ciaspola che secondo me va bene per principianti barra intermedi principianti perché comunque una ciaspola leggera è una ciaspola che grazie a tecnologia flex non ci darà problemi nel camminare a lungo su sentieri anche in piano fondo valle è una ciaspola anche per intermedi per persone che mentre camminano se trovano qualche traverso qualche punto un pochino più complicato non hanno problemi ad attraversarlo e questa ciaspola ci aiuterà non va bene per persone secondo me esperte persone che vanno a cercare percorsi complicati difficili dove magari ci sono da fare dei traversi anche lunghi perché in quel caso lì come vi dicevo la parte finale posteriore che in gomma non rigida beh fa male alla caviglia e questo davvero alla lunga può può dar molto fastidio perciò ragazzi nella speranza che sia stato esauriente ed esaustivo anche per questo video io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo ciao